A VOLTA VOLTA È Mbit che ride arriva frate ma e mo piché ride? E secondo te mi spagni frate? Fa come bo, tanto mo che arriva sa storia finiscia. Arriva? E come arriva? Su pu flip? Fammi ammazzare pure a Pino Silvestre. Ti hai detto no! Pino Silvestre l'ha ammazzato frate, l'ha ammazzato tutti e che sta facendo qua? Ma tu sei ciccato veramente famosa per ti pigliare pensione? Io ti vi occorre dicci. E guarda te l'ha ammazzata, sul tavolino del bar, ma di quei su non ti hai una voglia, non te la canzisti, che la sua passione ti hai un'altra vita, un flui per. Perché Filippo Nosso ha ammazzato Luigi Lore, un figlio di Luigi, Raffaello, ha ammazzato figlio di Filippo, Francesco, un figlio di Filippo che poi è figlio di Francesco che ti chiamava Paolo, un figlio di Luigi, che poi era figlio di Raffaello, è un figlio di Raffaello, è un figlio di Raffaello. Filippo Nosso ha ammazzato Luigi Lore. Dopo che era a Borso Luigi, l'ha venuto a sapere, Santino, Tommaso, Santino, Tommaso, ma che nome? Allora Filippo Nosso ha ammazzato Luigi Lore, lui era a Borso, poverino, Santino, ti ammazzato Maruzzo, grazie Paolo. E poi l'incanto è mia, tu me lo dici, io ti dobbiamo a combinazione, tu mi ammazzi e dopo avogli io caro Filippo. Sì, sì, sì. Grazie. La vendicò io, pa. Ma se sei stato tu che l'ho ammazzato? E mai io sei mio l'unico fratele vasto. Giusto. Ho capito. Mi sparano un colpa alla capa a questo io vendico. E tu fatti anche le te vendica. Giusto. E allora? Hai capito io. Come si fa la vendetta quando non si può ammazzare l'assassino? Come si fa la vendetta? Ah, si spara lo parente suo più vicino. E chi ne è lo parente più vicino dell'assassino, cioè di te? Ma sei sicuro, Paolo? E lo sai che sei più sicuro? Mi sono sordo. Il parente tuo si è disonorato. Immensamente disonorato. Raggiungerò un parente mio. Mi ha fatto un fame. Ci puntò la pistola. E PAH! Tu ti vuoi vendicare veramente? Due. Veramente e definitivamente? Sì. Sì. Sì.